Un contesto unico. Duca di Valtorta Kashmir nasce qui, nell'antico casale. Duca di Valtorta Kashmir, la gioia di offrire un Kashmir straordinario. Vi aspetta una vastissima collezione per donna, uomo e bambino, ad una convenienza mai vista prima. Duca di Valtorta Kashmir, il più grande spaccio Kashmir del Veneto, è a San Giorgio in Brenta di Fontaniva, in via Campanello 61. Grazie per la visione!